Tra i manifestanti domenica a Parigi c'era anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu accompagnato dal ministro dell'economia Naftali Bennett che Euronews ha intervistato. I due hanno fatto visita alla grande sinacoga di Parigi, in Francia la comunità ebraica e ancora sotto shock. Quello che ci attendiamo dal mondo libero e dall'Europa in particolare è prima di tutto realizzare quel che abbiamo di fronte, non fingere che questo non sia terrorismo di matrice islamica. Questo è terrorismo islamico, chiamiamolo col suo nome perché se non lo definiamo così ma come terrorismo generico non c'è modo di combatterlo. Ma non c'è il pericolo che questo venga interpretato come accusare tutti i musulmani di essere dei terroristi? No, non sto incolpando tutti i musulmani. Ovviamente la stragrande maggioranza dei musulmani non sostengono il terrorismo ma la maggioranza dei terroristi sono musulmani. Questo è un fatto e quel che occorre è batterli. Credo che l'Europa sia piuttosto ingenua, credo ci sia il desiderio con la scusa della correttezza politica, di capire i motivi di questi terroristi. Dovrebbe esserci tolleranza zero per qualsiasi attacco terroristico, zero tolleranza. Io non voglio capirli, voglio sconfiggerli. Dobbiamo combattere contro il terrorismo e vincere. Lo abbiamo fatto in Israele e ora deve accadere in Europa. Qual è il suo messaggio agli ebrei francesi che temono nuovi attacchi? In queste ore ho incontrato centinaia di ebrei francesi e ho visto la loro profonda preoccupazione. Il mio messaggio agli ebrei francesi è avete una casa, la vostra casa è Israele. Sia che decidiate di restare in Francia che di venire in Israele, lo Stato di Israele si sente responsabile del vostro welfare e della vostra sicurezza. Se rimarrete qui va bene, se verrete in Israele, vi abbracceremo. Il killer del supermercato ha menzionato la situazione dei palestinesi. Pensa che la situazione in Mediorente pesi su questi attacchi terroristici? No, affatto. C'è una motivazione ed è la sharia, è l'ideologia islamista fanatica. Cercare di capire il loro dolore non è l'approccio corretto. Quando si combatte contro il terrorismo c'è un solo approccio ed è la vittoria totale. Nafthali Bennett, grazie mille. Grazie mille.